Fake news vuol dire notizia falsa o falsificata. È falsa se è il frutto di un errore in buona fede. È falsificata se chi la diffonde sa di mentire. Le fake news sono presenti nei mezzi di comunicazione di massa tradizionali e anche su internet e oggi sono più diffuse che in passato perché è diventato più facile trasformarlo in soldi attraverso la pubblicità e le condivisioni su Facebook e altri siti. Il termine inglese è considerato troppo generico. Gli esperti preferiscono usare misinformazione se la notizia è falsa ma viene creduta vera da chi la pubblica senza intento di fare danni. Disinformazione se la notizia è intenzionalmente falsificata per causare danni a qualcuno. Oppure malinformazione se la notizia si basa su un fatto reale ma è raccontata con l'intento di causare un danno. Per riconoscere una fake news è utile a attingere alla propria esperienza personale se si è competenti nel settore trattato. In alternativa si può considerare l'attendibilità della fonte e chiedersi se la notizia fa leva su emozioni o pregiudizi di chi la pubblica e di chi la riceve.